La signora Teresa ci dà sempre delle grandi soddisfazioni. Oggi prepara una pasta al bitume, pesce e bitume. Vedete, mette a caramellare la pesce perché ormai per la signora è come per noi diciamo aglio e cipolla con l'olio. Lei mette la pesce, ognuno ha le sue le sue usanze. Ci mette la paprika, le cipolle tagliate coi petardi perché quelle si avvicinano a Capodanno. Allora la signora così, il sale, un pizzico, un pizzico di sale, quei 40-50 grammi, non di più. Pollo, prende la pasta pollo, fantastico, questa è la pasta addizionata con le proteine e le spezze, le spezze perché figurate, la pastassina fin nel midollo la signora Teresa. Le spezze, vedete, pare già i petardi, sempre, quindi continua cos'è la signora e le mette così, così nella pesce e nel bitume, così li lascia caramellare, risottare là dentro. Il sale era poco, signore il sale era poco. Acqua, acqua là sopra, acqua fredda, candeggina, unita a candeggina perché dopo deve venire bella, deve pulire la pesce. Guardate il fango, po po po, guardate là quanto è bello, quanto è bella. Adesso si ritirsi, fa tutta la crema, si ingremisce qua dentro, va va signora, bello il bitume, ma cosa c'è di meglio degli spaghetti a pomodoro? Ma che dobbiamo fare? Spaghetti al bitume, alla pesce, cioè, fantastica, ma lo dice anche il prete in chiesa, scambiatevi un segno di pesce, c'è, quando uno si gira e se lo scambia. La signora è molto devota, lasciate stare, vedete come pipiulea questo ragù, guardate là che bello, che sta prendendo tutti i colori della pasta, la signora Shbava non ce la fa più, la signora Teresa, quella signora Teresa ha anche i figli, sapete, sì, c'è, che è la, mamma mia, c'è anche, adesso sta prendendo i piatti, deve fare l'impiattamento, perché l'ha visto da Chef Ruffi, un piatto a vostro piacimento, signora, lo dice, lo dice anche lui, guardate, quello sta risottando bene la signora, lasciate stare, vedete si sta asciugando tutti i liquidi, in modo che viene bella, cremosa, di solito quella si fa cuocere troppo, questa è cruda comunque, cioè mezza cruda, perché là è, signora, che è, signora, ma è, buon appetito, che le devo dirvi, no?